Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato da Yardforex.com e in questo video parleremo di Bruce Kovner. Per chi non lo conoscesse, il buon Bruce Kovner è stato, ed è tuttora, un grandissimo trader intorno ai 30 anni, fece i suoi primi trade sulla soia e da lì poi, diciamo che investì appunto nella sua carriera da trader creò addirittura un fondo e mostrò a tutto il mondo le capacità con i risultati. L'attività principale di Kovner era quella di lavorare su valute e materie prime e cercava sempre un punto di vista macro per operare però con una conferma data appunto dai grafici e dal prezzo. Infatti Kovner diceva che prezzi favorevoli erano sinonimo di stop loss favorevoli e quindi rischi che si potevano correre sui mercati con il giusto timing. In questo breve video quindi voglio parlare dei sei principi e consigli importanti che proprio Bruce Kovner dà a tutti noi trader. e dico questo perché sono totalmente in linea con quello che diciamo da tempo noi di Artforex cerchiamo di fare sui mercati e di trasmettere nella nostra formazione di tutti i giorni. La prima regola di Kovner e consiglio che dà Kovner è quello di avere sempre uno stop loss. Sì è vero, voi mi direte sì uno stop, va bene, grazie, sì lo mettiamo. Eh però non è così scontato, ho conosciuto tantissimi trader che non sanno dove uscire dal mercato quando il mercato non gli dà ragione. Invece Kovner diceva che già quando si entra sul mercato dobbiamo sapere quando uscire dal mercato. E il buon Bruce Kovner aggiungeva una cosa molto importante e diceva che questi stop che devono essere già inseriti nel momento in cui si parte con una posizione devono essere messi in punti poco raggiungibili dal mercato e che se il mercato va su quei punti vuol dire che ci va a negare la nostra impostazione che abbiamo analizzato sul mercato, il trend di fondo o quello per cui siamo entrati. Quindi primo punto, avere uno stop e soprattutto in posti poco raggiungibili dal mercato. Altra cosa che diceva Kovner è che gli errori ci sono, ci saranno ed è tutto ok. Dobbiamo solamente imparare da essi. Quindi gli errori servono per migliorarci e non per abbatterci o abbandonare quella metodologia. Troppo spesso mi trovo a parlare al telefono o via mail con trader che ai primi errori o agli primi stop loss presi o alle prime perdite abbandonano o switchano completamente metodo. Cambiano. Invece gli errori ci sono, ci saranno sempre e con gli errori dobbiamo solamente trattarci. Cioè far sì che questi errori nel futuro diventino non più degli errori e quindi questi errori siano degli insegnamenti presenti per appunto migliorare la nostra operatività futura. Terzo punto che ci consiglia Kovner è quello del under trade. Cosa significa under trade? Diciamo che significa due cose. La prima è tradare con poco rischio, quindi ogni singolo trade non deve avere troppo rischio e under trade anche come sinonimo di qualità. Cioè tradare poco ma tradare bene. E voi sapete, se mi conoscete, che noi diciamo sempre che la qualità deve essere sopra la quantità. Quindi cerchiamo la qualità sul mercato e non tanti trade. Solo quelli che hanno le caratteristiche necessarie per darci dei soldi, per fare un buon trade sul mercato. E' ovvio che poi, se teniamo un basso rischio, abbiamo più possibilità nel tempo di rimanere a mercato e di gestire meglio la posizione che abbiamo a mercato. Proprio Kovner dice che lui tendenzialmente non rischia mai più dell'1-2% del suo capitale per un singolo trade. Quindi cerchiamo di imparare da questi grandi trader. Quarto punto, non perdere soldi per motivi che non conosci, diceva Kovner. Che significa conoscere il mercato e tradare ciò che conosciamo. Quindi questo poi, come diciamo sempre, è crearsi una lista, conoscerla, focalizzarsi su quella, avere la sensibilità di quegli strumenti e quindi capire la volatilità, capire gli swing, capire come si muove quel mercato sui breakout, sui ritracciamenti. E quindi se si perdono soldi su un trade che si conosce, va tutto bene. Ma perdere soldi su un trade e non si capisce il motivo, non va bene. Prendiamo quindi spunto da questo consiglio che ci dà Kovner e tradiamo solo i mercati che conosciamo. E se siamo all'inizio e quindi non ne conosciamo nessuno, non tradiamo subito e cerchiamo di andare in sintonia, studiare dei mercati e poi un po' alla volta, quando iniziamo a conoscerli, magari anche tradarci. Il quinto punto che suggerisce Kovner è quello del work hard, cioè del lavorare duro. Lavorare duro non significa stare al monitor 7-8 ore al giorno cercando costantemente un trade da fare, ma significa studiare, capire il mercato, analizzarlo, analizzare i dati, il prezzo, cercare di capire cosa abbiamo fatto ieri, l'altro giorno, l'altro anno, il nostro diario, quindi rispettare il piano. Quindi lavorare duro in questo. Lavorare duro significa essere disciplinati, significa seguire le proprie regole e studiare, studiare, studiare. Ultimo punto importantissimo, anche se anche molto semplice, era quello di seguire tendenze chiare. E poi diceva che per vendere un mercato bisogna avere un mercato bearish, un mercato in tendenza negativa e aspettare che questo mercato faccia dei rally al rialzo per poi cercare di vendere. E stessa cosa al rialzo. Se siamo davanti a un mercato in tendenza rialzista, aspettare che questo faccia un pullback si indebolisca un po' e poi ci può dare, in quel caso, magari un'opportunità di acquisto. Quindi non comprare così o vendere così, ma cercare una situazione chiara e tradare la situazione chiara. Questi sono i sei punti che ho estrapolato più importanti e che sono totalmente in linea con quello che è IR Forex, Arduino e noi appunto di IR Forex diciamo da anni e facciamo sui mercati da anni. Spero che questa breve pillola quest'oggi vi sia piaciuta molto. Magari cerchiamo tutti insieme di mettere in pratica questi principi o per quanto mi riguarda di continuare a mantenerli nel proprio piano. Io per oggi diciamo ho finito, vi saluto, vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!